bene buonasera a tutti una sera al pubblico che si è collegato sono antonello zanda direttore della società umanitaria cineteca sarda di cagliari in occasione dell'otto marzo giornata internazione della donna i centri servizi culturali della società umanitaria in sardegna quelli di alghero cagliari carbonia il laboratorio di antropologia visuale di sassari insieme all'affice federazione italiana dei circoli del cinema e con la preziosa collaborazione dell'amod archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico di roma del festival del reale della cineteca di bologna della cineteca lucana abbiamo organizzato questo evento che abbiamo voluto intitolare cecilia mangini lo sguardo delle donne sul reale una rassegna cinematografica e anche un momento di approfondimento che quello che inizia in questo momento dedicati alla figura di cecilia mangini grande fotografa documentarista e sceneggiatrice alla sua non siamo in onda ma io visto broadcast is live prima ecco paolo siamo in onda sì c'è stato un problema tecnico scusate riprendo il discorso perché c'è stato un problema tecnico per cui ho iniziato a parlare prima di collegamento e buonasera a tutto il pubblico che è collegato mi chiamo antonello zanda sono il direttore della società umanitaria cineteca sarda di cagliari in occasione dell'otto marzo giornata internazionale della donna i centri dell'umanitaria sarda alghero cagliari carboni e laboratori di sassari insieme all'affice federazione italiana dei circoli del cinema e con la collaborazione preziosa dell'amo d'archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico del festival del reale della cineteca di bologna della cineteca lucana abbiamo organizzato questo evento che abbiamo voluto intitolare cecilia mangini lo sguardo delle donne sul reale una rassegna cinematografica ma anche un momento di approfondimento che quello che sta iniziando in questo momento dedicati alla figura di cecilia mangini grande fotografa grande documentarista e sceneggiatrice e alla sua straordinaria eredità artistica culturale sociale e politica cecilia che ci ha lasciato poco più di un mese fa aveva un rapporto speciale con la sardegna in particolare con la cineteca sarda quello con la terra sarda è un rapporto che risale agli anni sessanta testimoniato da alcuni suoi documentari in questi ultimi anni abbiamo più volte avuto il piacere di coinvolgerla e lei non si è mai tirata indietro ci ha sempre colpito il suo grande impegno civile e politico coerentemente legato al suo fare cinema al suo sforzo di documentare la realtà sociale e l'umanità dimenticata invisibile della nostra storia recente con un occhio privilegiato per il meridione e per le persone che abitano le periferie sociali ed economiche del nostro paese crediamo che sia importante a partire da oggi che noi la ricordiamo cercando di rilanciare la sua sintesi di momento etico ed estetico quella sintesi che è riuscita a integrare nella sua opera fino al 12 marzo di quest'anno in streaming gratuito sulla nostra piattaforma online sardegna umanitaria.it si possono vedere i film che abbiamo scelto per questa rassegna i film sono la canta delle marane allarmi sian fascisti essere donne brindisi 65 e facce girato quest'ultimo recentemente insieme a paolo pisanelli il secondo blocco di film è in viaggio con cicilia di mariangela barbanente triangle di costanza quatriglio la linea sottile di paola san giovanni la cena di toli di la cena di toni scusate di elisabetta pandimiglio e breve dialogo con cicilia mangini quest'ultimo inedito è la intervista integrale che cicilia ha concesso a peter marcias per il suo film su nil dei otti e lo vediamo oggi per la prima volta nella sua versione integrale l'incontro di oggi che è visibile nelle pagine facebook e youtube dell'umanitaria ma anche nella pagina facebook dell'amod è organizzato in due blocchi di circa 45 minuti ciascuno il primo blocco punta l'attenzione sulla figura di cicilia e raccoglie gli interventi di marco azunis luca del fra gabriella gallozzi paolo pisanelli elisabetta randaccio e vincenzo vita il secondo blocco è dedicato all'eredità di cicilia raccolto da registe importanti del nostro cinema intervengono in questo secondo blocco costanza quatriglio mariangela barbanente elisabetta pandimiglio paola san giovanni con il coordinamento di elisabetta randaccio voglio qui ringraziare prima di dar la parola al primo degli interventi voglio ringraziare in particolare i colleghi di tutti i centri sardi dell'umanitaria che hanno lavorato per la realizzazione di questo evento l'affice marco azunis paolo pisanelli gli amici dell'archivio dell'amo da cui ci lega un lungo rapporto di amicizia e di collaborazione le registe che hanno accettato il nostro invito e tutti gli ospiti che abbiamo coinvolto ringrazio inoltre la ceneteca di bologna che questo mese nel presentare una sua rassegna su cicilia nel suo portale ci ha anche dato la possibilità dato la possibilità ai soci dell'umanitaria di abbonarsi con un prezzo scontato di 12 euro invece che 15 fino al 20 marzo e vedere non solo i film della rassegna su cicilia mangini ma anche tutto il pacchetto offerto dalla ceneteca di bolleonia quindi do la parola chiedo agli amici che intervengono di rispettare i rigorosamente i tempi che abbiamo loro assegnati così da far iniziare il secondo blocco nei tempi giusti la parola va a luca del fra giornalista figlio di cicilia mangini lino del fra per un suo saluto io sono abbastanza sono onorato che oggi ci sia questo ricordo di cecilia e soprattutto che questo ricordo poi si sviluppi anche con approfondimenti tematici che spero diano anche adito a ricerche la casa di cicilia i suoi archivi le sue cose scritte così come quelle di lino del fra mio padre sono aperte agli studiosi e a chi è interessato a queste cose il mio però è solo un saluto perché ci sono delle persone che potranno dire cose molto più interessanti di quanto di quelle di quante io ne possa raccontare l'unica cosa che mi sento di sottolineare è che tenevo a essere a questo appuntamento perché il legame di cecilia con la sardegna non è non è stato un legame effimero quando lei è arrivata in sardegna a girare i suoi documentari questo legame è rimasto sempre fortissimo e infatti è poi ripreso proprio con con il suo ultimo lavoro su grazia dell'elda e anche questo io ritengo che non sia un caso mi piace ricordare così in termini molto molto corsivi come dopo le sue prime visite in sardegna eh cecilia e lino eh decisero di fare una vacanza in sardegna eh io ero molto piccolo quindi eh come si dice ero al seguito e fu una vacanza molto particolare perché normalmente noi abbiamo un'idea della sardegna fatta di spiagge bellissime e naturalmente di mare e poi poco altro eh in realtà questa vacanza che durò anche abbastanza perché negli anni sessanta le vacanze erano anche un po' più lunghe di oggi ehm naturalmente ci furono eh delle giornate al mare ma fu soprattutto una vacanza alla scoperta dell'entroterra dei paesi delle chiese eh dei centri storici dei eh soprattutto delle delle zone popolari dei centri storici che hanno un sapore un po' diverso forse questo le veniva proprio dalle sue origini eh in Puglia basta pensare a Bari Vecchia e alla parte popolare di Bari Vecchia e e proprio questa vacanza in fin dei conti eh e questo vabbè è un ricordo un ricordo personale di cui mi perdonerete mi ha segnato perché poi io le mie vacanze più o meno le faccio in questo modo cioè quando vado da qualche parte cerco di esplorare dei posti eh forse inconsueti per per il modello di vacanza qui oggi ci eh che oggi ci viene proposto quindi eh per concludere io sono veramente contento che oggi ci sia questo ricordo e questo momento di studio di approfondimento su Cecilia e eh e sono contento soprattutto perché ci sono persone che l'hanno conosciuta e che si sono realmente interessate al suo cinema e quindi ritengo che sarà eh un'occasione buona per conoscere meglio il suo lavoro e il suo cinema. Grazie. Bene, ringraziamo Luca Del Fra per il suo saluto, lo ringraziamo veramente tantissimo per aver accettato il nostro invito a partecipare e ad aprire questa giornata di lavori. Do la parola a Gabriella Gallozzi, la presento, giornalista, professionista e critica cinematografica, ha lavorato per l'unità nella redazione Cultura e Spettacoli e dal 2015 dirige BookChuck Magazine, quotidiano culturale online dedicato al rapporto tra cinema e letteratura. Dal 2015 fa parte della giuria del premio Sorinas, ha anche realizzato diversi documentari e pubblicazioni editoriali. In BookChuck se volete potete trovare diversi articoli firmati da Cecilia Mangini, molto interessanti e molto belli, molto emozionanti. La parola a Gabriella Gallozzi. Grazie. Intanto appunto Cecilia ci manca, ci manca tanto e questi momenti in qualche modo ci aiutano perché la cosa che è importante adesso è raccontare, è diffondere il cinema di Cecilia che per tanto tempo purtroppo è stato un po' dimenticato, è stato un po' messo da parte. Il mio ricordo di Cecilia è il ricordo di una persona appunto con la quale ha condiviso tanto tempo e quindi tanti momenti anche di riflessione eccetera e se io penso a Cecilia penso appunto a una donna soprattutto controcorrente, anticonformista e fuori dagli schemi. Chi l'ha conosciuta da vicino sa bene che questi sono stati proprio i suoi talenti più veri e persino quello di provocatrice in certi casi ma mai per apparire, quanto piuttosto per istillare un dubbio, per spingere ad una riflessione in più invece che accontentarsi delle considerazioni facili, soprattutto in questi nostri ultimi tempi di pensiero omologato, pensiero unico peggio, capace di rendere conformismo anche le battaglie delle donne trasformate in contenuti da social da sbandierare per le feste comandate tipo l'otto marzo o ancora in fenomeni di moda di un politicamente corretto sempre meno politico. Quanto stava a disagio Cecilia davanti a tutto questo, lei che le battaglie quelle vere le aveva fatte tutte e che col suo essere donne aveva firmato un manifesto femminista ma di questo del resto vi parlerà tanto meglio Elisabetta Randaccio nel suo intervento. Ecco io invece vorrei prendere un po' la parte di Cecilia e provocatoriamente andare ad analizzare invece con quale spirito anticonformista Cecilia abbia raccontato le donne nei suoi film o anche in quelli di Lino, compagno di una vita di cui non solo ha firmato le sceneggiature ma ha seguito sempre passo passo tutta la lavorazione, in questo scambio che era difficile capire dove finiva il lavoro di Cecilia o dove iniziava quello di Lino. Così per capire ancora meglio come certe facili semplificazioni in stile, sguardo delle donne appunto, davano fastidio a Cecilia, appunto davano fastidio. Lei per esempio era arrabbiatissima nei confronti dell'Equaterosa e ecco è proprio per capire meglio questo suo anticonformismo che vi voglio parlare dei suoi personaggi femminili. Partiamo proprio per esempio da questo primo scatto che voi giustamente avete preso per fare la locandina bellissima tra l'altro di questa iniziativa. Quel reportage nelle cave di Pomice all'Ipari con quella donna inquadrata da dietro nel suo vestito bianco con la gavetta da portare al marito in una mano e nell'altra un ombrello chiuso probabilmente per ripararsi dal sole. Quei piedi nudi, le braccia sottili, la silhouette bianca nel biancore della Pomice. Quanta bellezza ed eleganza c'è in quell'immagine nell'andare di questa donna così fuori da ogni schematismo e direttorica della miseria o della fatica. Chi l'avrebbe potuta raccontare in quel modo se non Cecilia? E via di seguito in Tommaso il ragazzo che sogna di entrare al petrolchimico di Brindisi e invece troviamo la madre lì al contrario che prange il suo figlio morto, già vittima di quello che sarebbe diventato il disastro ambientale più grande. E quelle contadine in stendalì con i loro volti di roccia incorniciati da quei fazzoletti scuri che attraverso quegli antichi canti funebri si trasformano in sacerdotesse dal potere arcaico. Professioniste del lutto, diceva Cecilia, trovando riduttivo l'espressione corrente di prefiche. Chi le aveva mai mostrate in tutta quella loro potenza? O come Maria, quell'anziana e poverissima contadina al termine dei suoi giorni, eppure ancora padrona, orgogliosa dei suoi giorni, che vediamo impegnata nel suo quotidiano di fatica e riti magici. Perché lo ricorda la voce narrante, questa è la magia per i vecchi, l'abilità di custodire in segreto una difesa contro i colpi improvvisi dell'ignoto. Com'è distante anche in questo caso la retorica sulla povertà del mondo contadino a cui siamo abituati da altre narrazioni? Anche le bambine sono fuori negli schemi nell'universo di Cecilia. Prendiamo Rita, per esempio, la piccola ribelle della torta in cielo, magnifica fiabba pacifista di Rodari che insieme a Lino ha portato al cinema. Nella schiera dei ragazzini di Borgata, Rita è quella che spinge tutti ad andare a vedere la torta. Lei è l'unica ragazzina, l'unica bambina in una schiera di maschi. È l'unica che non crede alla propaganda della televisione, che parla di russi o marziani. Rita crede solo a quello che vede, e quello che vede è una splendida torta di cioccolata da mangiare. Le donne di Sicilia, poi, intervistati da Lino in comizi d'amore, sanno parlare anche di se stanno, nonostante l'estrazione contadina e l'età avanzata. Seduta intorno a un tavolo raccontano dei mariti e dei figli sfornati a Africa, ma anche di quando, ed è più ansuane a raccontarlo, hanno scelto aborto per non avere più figli. Sono un po' tutte donne combattenti, a loro modo, queste donne che Cecilia ha raccontato nei suoi film. Almeno Cecilia ne coglie questo aspetto, probabilmente sentendo le sorelle, come le Viet Cong, che si tolgono gli abiti di operaie per indossare quelli da guerrigliere, per farsi fotografare così, orgogliosamente combattenti. O come Grazia De Ledda, il suo penultimo film, come quello sul Vietnam, ha realizzato in coreggia con Paolo Pisanelli, in cui Cecilia, spinta ancora una volta dal suo sguardo conformista, indaga l'opera e la vita della scrittrice salda. Questo premio Nobel, Grazia De Ledda, così dimenticata che non si studia neanche a scuola, e Cecilia, nei suoi studi, ne scopre l'aspetto rivoluzionario di donna che trova la sua emancipazione attraverso l'arte. Arte, tra l'altro, rivolta al mondo degli ultimi, dei contadini, di quel mondo arcaico che anche Cecilia ha studiato. Anche questa, evidentemente, è una sorellanza che si fa sentire a distanza di decenni lontani. Queste sono le donne che ha raccontato Cecilia, in queste loro mille sfaccettature, che certo non possono essere riassunte nel pensiero semplicistico e omologato di quelle che sono, appunto, le feste comandate in favore delle donne, come se fosse soltanto quello il giorno dedicato alle donne. Io vi ringrazio e spero di avere dato un'idea di quello che è stato il lavoro di Cecilia. Grazie, grazie Gabriella. È stata veramente interessante la tua sintesi sul grande lavoro che ha fatto Cecilia. Adesso è in scaletta Vincenzo Vita. Io con grande piacere do la parola a Vincenzo. Lo presento. Vincenzo Vita, giornalista e politico italiano. È stato deputato della tredicesima legislatura, ricoprendo peraltro anche l'incarico di sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni, ed è stato senatore nella sedicesima legislatura. Dal 2015, però, è importante ricordarlo, è presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma. È collaboratore del quotidiano manifesto dal 2013 ed è stato anche docente, per dare un tocco di Sardegna, è stato docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Sassari nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Giornalismo. Numerose sono le sue pubblicazioni, impossibili da ricordare qui. Do la parola a lui che ci parlerà del profondo rapporto che Cecilia Mangini aveva con l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio. A te la parola, Vincenzo. Grazie Antonello Zanda e grazie per questa bella iniziativa. Non c'è nulla di retorico perché so che nella profonda cultura sarda la retorica e i merletti non sono in uso, è una cultura giustamente asciutta e rigorosa e quindi va rispettata. Le mie sono congratulazioni perché è una bella iniziativa di ricordo di una persona straordinaria. Permettimi però Antonello, visto che l'hai citato, di salutare eventualmente qualche amico sassarese perché avevo avvertito di questa iniziativa, ma forse lo sollevano già per conto loro, Rosario Cecoro ed altri che furono all'epoca importanti, dico colleghi anche se io sono stato solo docente a contratto, quindi l'Accademia è un'altra cosa, in un'esperienza sassarese molto importante in cui ho anche imparato perché quando si insegna bisogna innanzitutto studiare. Parliamo di Cecilia Mangini. Luca Del Fra, che considero un po' come un fratello, ci ha detto già qualche cosa importante di Cecilia. Io di Cecilia devo innanzitutto ovviamente rammentare, non solo per dovere d'ufficio, ma perché è una delle sue varie facce, l'esperienza nel e con l'archivio audiovisivo del momento predemocratico, che ho l'avventura fortunata di presiedere pro tempore e che ha tra i suoi garanti, ha avuto storicamente tra i suoi garanti, è una dotazione culturale dell'archivio, una delle prime tra l'altro come tali denominata insomma rica la firma di Pertini, addirittura nel 1985, ecco le fondazioni culturali hanno i garanti. Tra le figure di spicco dei garanti dell'archivio c'era una Cecilia Mangini e qui vengo a un punto importante che Gabriella Gallozzi ha evocato, una Cecilia Mangini mai doma anche rispetto a un certo senso comune politically correct per così dire. Verissimo che lei non sarebbe riconosciuta in certe celebrazioni non autentiche, soprattutto quelle fatte dai maschi dell'8 marzo, non si sarebbe riconosciuta nella pur importante iniziativa democratica delle quote rose, non l'avrebbe immaginata e lo immaginava come troppo limitata. Sicilia Mangini è stata una femminista antelitteram dove per femminismo non intendiamo solamente il grande movimento carsico che resiste e per fortuna procede a differenza di altri che si sono semisciolti, ma intendiamo una connotazione dell'essere donna come una forma di lotta e cioè non donna come parentesi rispetto all'abitudine maschile, cioè qualche volta l'idea del femminile è associata soprattutto nelle archi all'essere degli uomini un po' diversi. Invece no, lei ha rivendicato sempre la sua forza di donna, di lotta e di grande cultura, di passioni e anche di lungimiranza estetica. Io non mi metto a parlare di cose che non mi appartengono, insomma ognuno faccia il suo, però io ho sempre notato in Cecilia una curiosità culturale e artistica non usuale. Penso per esempio a quelle straordinarie foto che lei ha fatto, ora le fotografie adesso figuriamoci con i selfie, sono delle banalità, ma sono state nella stagione in cui Cecilia Mangini le ha utilizzate come forma di arte, di racconto della realtà. Pensiamo a quelle incredibili su Dietram di cui si parlava. Ecco, Cecilia Mangini ne ha fatto uno strumento un po' alla Walter Benjamin, diciamo così, una modalità di riproduzione tecnica e poi il suo occhio nella cinepresa. abbiamo rivisto qualche materiale di donne e ragazze filmate, famoso essere donna di Cecilia Mangini e come è diverso, dicevo a Paola Scarrati, tra le fondatrici dell'archivio e grande amica di Cecilia. Quando vedevamo quelle immagini scorrere, come è diverso l'occhio di una donna regista rispetto all'occhio, magari anche molto accurato, di un uomo. Cioè la capacità di vedere il volto di una donna, il camminare di una donna, da parte di una donna è un po' diverso. E quindi Cecilia ci ha dato tante cose straordinarie. Io però, prima di concludere, sto arrivando al mio tempo, direbbe no, quello del settimo segillo, il tuo tempo è finito, volevo ricordare l'esperienza che ho fatto quando da giovane militante della nuova sinistra mi imbattei, ignaro di chi fossero, in Cecilia Mangini e Lino Delfratti, che ricordo con grande affetto. Persone straordinarie, di caratteri molto diversi, molto più dura Cecilia, molto più dolce, diciamo, tra virgolette. Lino, e quando vidi quel film, che per me è stato un film di formazione, La torta in cielo, perché era un film che, riprendendo Rodari, lo rovesciava facendolo diventare un inno politico dolce, però elegante, in cui la sloganistica, come posso dire, era una sorta di urlo implicito, e non invece una proclamazione come un certo cattivo cinema militante. E poi potrei ricordare tante altre cose, per esempio, e chiudo proprio, e qui parliamo di educazione di tanti della mia generazione, ma tante e tanti. Ho provato La torta in cielo, ma c'è un altro film fatto da Lino, Cecilia, con Miciche, Allarmi sianfascisti, che ci documentò pezzi della storia del fascismo che la tradizione prevalente e non voleva che si vedessero. Infatti fu un film accidentato, diciamo, da tante censure, da tanti dettivi di blocco. Fu un film difficile, che però è rimasto come una sorta di narrazione dell'attualità purtroppo permanente dei regurgiti fascisti. Ecco, io ho concluso, credo, i minuti a mia disposizione. Vorrei dire, ricordiamo Cecilia Mangini, perché Cecilia Mangini è con noi. Ci ha raccontato cosa vuol dire fare cultura, cinema, audiovisivo, fotografia, arte in generale, con la voglia di cambiare il mondo e non di contemplarlo. Lei era davvero un'artista socialista, nel senso profondo del termine, e rivoluzionario. Grazie e buon lavoro. Grazie Vincenzo, sei sempre molto efficace nella tua comunicazione. Passiamo la parola adesso a Paolo Pisanelli, fotografo, filmmaker, curatore di mostre ed eventi culturali, direttore artistico della Festa del Cinema del Reale, ha realizzato molti documentari dedicati ai temi dei migranti, delle lotte sociali, delle tradizioni musicali. Nel 2005 ha conosciuto Cecilia e sono diventati amici. Con la Festa del Cinema del Reale e Officina Visioni ha promosso la sua opera fotografica e cinematografica a livello internazionale, realizzando tre documentari e due cortometraggi in corregia proprio con Cecilia Mangini e curando le sue mostre fotografiche. Ultimamente ha anche intrapreso un progetto di film su Grazia Deledda. Paolo, a te la parola. Cerca di stare nei tempi. Grazie. Io parto da questa immagine, la vedete? Voilà. Questa è la copertina del catalogo, Cecilia Mangini, Visioni e Passioni. Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Gabriella, perché è molto interessante questo percorso, diciamo, di personaggi e persone, di donne che entrano nel cinema di Cecilia e che raccontano delle storie importanti. Cecilia, in questa foto, per esempio, diciamo, la sua curiosità era quella di fotografare anche tanti maschi senza nessuna donna. Forse se l'andate a cercare qualche donna così molto nascosta esce fuori. A Rutigliano, 1956, la festa in piazza, la banda suona, Cecilia si mette alle spalle del direttore d'orchestra, tutti sgranano gli occhi e lei scatta una foto, una foto bellissima, che è stata manifesto a Teheran, al Facil Festival, che ha girato il mondo, anche con le mostre. Allora, anche l'assenza della donna, per Cecilia, secondo me, a volte aveva una grande forza. In questa assenza, forse ci ricolleghiamo anche a quel viaggio che era, diciamo, erano dei documentari per la RAI, domani vincerò, di cui poi noi con Cecilia, con l'archivio di Scena del Reale, per la festa di Scena del Reale, avevamo così ridotto, avevamo raggruppato tutte le cose che riguardavano la Sardegna. Perché vi dico questo? Perché evidentemente era molto attratta da questo mondo in cui la gente si batteva, era un po' una possibilità di scalata sociale, di uscire dalla povertà, però a suon di pugni. E allora c'era anche il parallelo tra il pugile che aveva sfondato Benvenuti, che era diventato cowboy nei fin western, e i tanti ragazzi che si allenavano nelle palestre. E così era andata ad Alghero, era andata a Bolodona. Aveva fatto un viaggio nella Sardegna della fine degli anni Sessanta, un bellissimo viaggio, devo dire, veramente un viaggio con delle immagini anche proprio che raccontavano anche la difficoltà di muoversi in Sardegna, con i posti di blocco della polizia, che andavano a cercare i banditi, che volevano contrastare questa famigerata criminalità sarda. E invece lei scavando vedeva che c'era anche molti problemi sociali, molta povertà dietro questa occupazione militare. Poi, insomma, io vi parlo un po' di questo legame fortissimo che aveva con la Sardegna. Intanto parto velocissimamente. Il mio legame con Cecilia era nato non grazie alla Sardegna, ma grazie al Salento, alla festa di Cina del Reale, dove un mio amico, Mirko Grasso, storico, mi aveva detto ma lo sai che ci sta una regista che ha fatto un documento ebre a Martano, Cecilia Mangini. Io non conoscevo assolutamente né Cecilia né Lino, perché credo che bisogna sempre nominarli insieme. Sono una coppia eccezionale per quello che hanno fatto. Poi spesso decidevano di fermare o l'uno o l'altro i documentari anche per un fatto di diritti d'autori, di premi di qualità. Però loro lavoravano sempre insieme. Quindi Cecilia è partita dalla fotografia, da quella fotografia e da altre, negli anni 50, poi nel 58 aveva realizzato I gnoti alla città e poi aveva fatto un percorso bellissimo dentro il documentario, fino al grande reportage del Vietnam, che per lei erano appunti visivi. E io ho dovuto un po' combattere per farli ritirare fuori, per dargli la dignità di un reportage bellissimo, di centinaia e centinaia di foto, che speriamo presto poi di farne anche una mostra, perché insomma abbiamo lavorato molto insieme con Cecilia. Io ho fatto, siamo ultimando i tre documentari che avevamo iniziato insieme, due cortometraggi, due mostre fotografiche. Quindi si è stabilito un rapporto e un'amicizia fortissima. E questa amicizia fortissima a un certo punto ci ha portato a fare una mostra proprio a Nuoro, all'Isre di Nuoro, grazie a un interesse di questo centro. Sì, oltre alla Cineteca Sarda, con cui avevano un rapporto molto forte, l'ho avuto poi fortissimo anche con l'Isre, e proprio con l'Isre che abbiamo fatto questa mostra isole, su Lipari e Panarea, e poi le vietanze erano libri, e poi insomma è nata una collaborazione che ora ci sta portando a chiudere, grazie ad Eledda, la rivoluzionaria. La Sardegna, per Cecilia però, si era affacciata, il primo lavoro era stato Sardegna, in cui raccontava la costruzione della Carlo Felice, per l'ANAS addirittura, e in sette minuti lei, cioè questa enorme capacità di sintesi, questa veramente lei sempre diceva voi girate uno a trenta, uno a quaranta, noi giravamo uno a due, uno a tre, comprando al mercato nero la pellicola. E in Sardegna è bellissimo, come in sette minuti lei racconta dalle statuette, dai nuraghe, dai luoghi, però anche della contemporaneità, di Cagliari, delle fabbriche, e di questa strada che si sta costruendo, racconta la Sardegna, senza evitare di raccontare anche che a Porto Torres ci sono degli scioperi, per il diritto al lavoro, per la salute, per la sicurezza. Io credo che quelli sono eccezionali, anche questi, diciamo, lavori alimentari, li chiamavamo tra me e Cecilia, lavori alimentari di sette minuti, però avevano una forza espressiva grandissima, con un uso anche mai banale, delle voci, delle musiche. Lei ha collaborato non solo con Pierpaolo Pasolini, di cui sicuramente si parlerà, anzi, Pasolini ha scritto i commenti per i suoi tre ignoti alla città, Stendalì e la canta delle marane. Ma non solo questa collaborazione, ma ha avuto poi la forza di collaborare con grandi scrittori. Franco Fortini ha scritto il testo di Allarmi Siamo Fascisti e ha collaborato con Pratolini, con Vittorini, per fare delle fotografie. Ha fotografato Fellini, ha fotografato Jules D'Assen con un reportage bellissimo a Carpino, nel 58. E quando è arrivata in Sardegna è riuscita a sintetizzare veramente a metà degli anni Sessanta la Sardegna in sette minuti. Poi però, innamorata, da lì infatti ricordava Luca di questi viaggi, di queste vacanze in Sardegna, ci è ritornata, per domani vincerò, proprio per andare a raccontare dentro le palestre della box. dentro le palestre della box questa lotta per lo sport, ma proprio per la vita, per la fama, per uscire fuori dalla dimensione di pastori, di disoccupati. E sono bellissime le immagini del pastore che si allena dietro al greggio di pecore in mezzo a un entroterra sconfinato, qualche raro albero, fa le flessioni, combatte col vuoto e va dietro alle pecore. Allora, Cecilia, a un certo punto, raccontandosi, una volta mi disse il mio realismo è sempre abbastanza lontano dalla realtà. Insomma, io credo che nonostante abbia poi anche fatto un cinema che poi si confrontava anche con i grandissimi, gli Ernesto De Martino per essere da lì, e poi era un cinema che spesso diventava un cinema anche inizio di essere donne, un po' astratto, una riflessione sulla società. Devo chiudere, devo chiudere, la donna rock del doc, per me Cecilia e per noi della festa di cinema reale è stata questa, una donna rock che per quanto abbia fatto un cinema eccezionale, classico, però è stata anche pop, è stata sempre vicina alle persone e l'ha saputo raccontare, ha saputo coinvolgere ed è stata generosissima con tutti, con giornalisti, ma con studenti, con stagisti, con amici e con i cineasti. Grazie Cecilia e grazie a voi e grazie a tutti. Bene, grazie Paolo per il tuo preciso contributo, cerchiamo di essere più brevi perché siamo, se no rischiamo di perdere qualche amica. Elisabetta Randaccio, critico cinematografico, giornalista pubblicista, operatore culturale, responsabile internazionale dell'Affice e scrive su diverse testate online cartacee e ha pubblicato saggi sul cinema e sulla cultura. Te la parola Elisabetta. Grazie Antonello, come forse aveva già anticipato Gabriella Gallozzi ho scelto per il mio breve intervento qualche riflessione su un film che il nostro pubblico può vedere tra quelli scelti dalla rassegna, ovvero Essere donne. Ecco, Essere donne è un film esemplare ed esemplare per vari motivi. Uno di questi motivi è la sua vita distributiva. Infatti, nato come diciamo supporto politico di un anno in cui dovevano esserci le elezioni quindi supportato dal partito comunista ha avuto una vita distributiva abbastanza particolare perché fu bocciato dalla commissione di censura e quindi non ebbe l'opportunità di essere fruito nelle sale come capitava allora per certi documentari che precedevano diciamo il film importante della serata. Però è stato da questo punto di vista compensato con una vita distributiva alternativa sfogliando i registri della Cineteca Sarda per esempio dei prestiti della Cineteca Sarda noi vediamo che tra il 74 75 79 essere donne viene prestato 80 volte più di 80 volte nella provincia di Cagliari nelle scuole nei circoli nelle associazioni quindi c'è stata sicuramente una fruizione diversa che sicuramente alla Mangini avrà fatto piacere ecco è un film esemplare anche come forse ha accennato qualcun altro per la sua a suo aspetto formale e sperimentale se noi andiamo a vedere per esempio l'incipit di essere donne vediamo queste fotografie a colori che ci rappresentano delle donne belle eleganti famose contrapposte con una sorta di montaggio delle attrazioni a delle bombe atomiche ecco era una provocazione che poi continua con l'uso di colpo del bianco e nero per raccontarci una un'inchiesta sicuramente sorprendente alternativa sul lavoro delle donne negli anni del boom del boom economico aggiungere soltanto che a questa struttura formale si aggiunge in positivo la musica di egisto macchi che altrettanto sperimentale che diciamo non è commerciale che cosa racconta essere donne racconta in fondo l'industrializzazione la modernizzazione degli anni del boom in maniera non certo fascinosa come invece capitava in altri documentari e in altri documentari dell'epoca ecco è anche un viaggio dentro la fabbrica e mi pare di aver letto che la Mangini che per la Mangini questo è stato uno dei motivi per cui ha girato essere donna per entrare col suo occhio nella fabbrica certamente questa la fabbrica per il lavoro femminile di quegli anni non era certo una qualcosa di semplice e di come dire di dispretamente soddisfacente tanto quanto il lavoro che viene illustrato anche esso nel cortometraggio lavoro agricolo quello più primitivo con una serie di immagini che come forse ha detto Vincenzo Vitta sono molto particolari e che riprendono in realtà sono quasi un affilo conduttore queste immagini delle campagne del sud rispetto all'opera complessiva di Cecilia Mangini queste abbiamo in essere donne spesso queste lavoratrici stremate perché non hanno un supporto per la conduzione domestica infatti sono costrette a fare sia lavoro in fabbrica o nei campi sia a collarsi completamente al lavoro domestico e c'è solo un caso ed è un momento quasi grottesco in cui si vede una coppia che accudisce un bambino e siccome fanno i turni ambe e due non si vedono un po' ricorda l'episodio tratto dal racconto di Calvino Renzo e Luciana di Monicelli con una coppia che non si incontrava mai perché erano in turni diversi ecco in conclusione le ultime immagini ci danno intanto un minimo di speranza per le giovani donne che sembrano comunque più capaci di come dire individuare il positivo da questo lavoro in fabbrica e che tentano anche di avere un altro tipo di coscienza politica rispetto alle donne che li hanno precedute a livello diciamo di età ecco il finale infatti è anche questo esemplare emblematico le donne scendono in piazza le donne scendono in piazza ma perché cosa soprattutto per manifestare per la pace e vediamo quindi le immagini di queste ragazze di queste signore che con i cartelli che davanti alle polizie inneggiano a un mondo migliore infatti viene detto nel commento che peraltro in un'intervista Cecilia Mangira ha detto io ho fatto fare un uomo sempre in questa ottica di provocazione cioè Felice Chilanti dicevo nel commento alla fine si dice si devono si possono cambiare le cose grazie 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 Elisabetta sei stata nei tempi e ci hai aiutato a non sforare troppo bene chiudiamo questa prima serie di interventi con Marco Asunes Marco Asunes operatore culturale presidente nazionale dell'Affici dal 2008 autore di pubblicazioni sui temi dei diritti del pubblico ed è membro di invadi e giurie di festival cinematografici internazionali ho detto presidente dell'Affici Cecilia aveva un rapporto particolare con l'Affici ha fatto parte dell'Affici ci dirà qualcosa sicuramente anche Marco del rapporto con l'Affici ma non solo credo a te la parola Marco che culturali di Cecilia Mangini e dei suoi rapporti con l'associazionismo cinematografico in particolare di quelli sviluppatisi con l'Affici la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema significa in sostanza parlare della sua formazione che sta poi alla base di ciò che l'ha portata a diventare quel che è diventata una grande fotografa e documentarista sociale e politica ma anche una straordinaria operatrice culturale sappiamo come da adolescente frequentasse a Firenze i CineGoof i circoli cinematografici universitari fascisti è finita la guerra della sua adesione alla prima associazione nazionale di cultura cinematografica la Fitch appunto che nasceva nel nostro paese nel 1947 associazione nella quale a Roma riuscì a partire dal 49 1949 perfino a lavorarci come collaboratrice nell'amministrazione entrando comunque all'interno di una dimensione associativa in cui il cinema sviluppava con i suoi circoli sparsi in tutto il territorio nazionale aggregazione pensiero critico partecipazione attiva sul piano culturale e politico ecco insomma raccontare di Cecilia anche per quello che lei è diventata dopo significa anzitutto entrare dentro questa dimensione culturale complessiva che risultava però ad appannaggio esclusivo dei maschi una dimensione che avrà nel dicembre del 1952 un passaggio cruciale di autentica svolta per la stessa vita di Cecilia Mangini a Orvieto si svolge il sesto congresso della federazione e Cecilia ha il compito principale di seguire i delegati ufficiali con le certificazioni necessarie per il loro alloggiamento e il sostentamento alimentare insomma diversi mesi prima di quell'anno nell'affice c'era stata una durissima spaccatura interna che aveva portato diversi circoli ad allontanarsi a formare una nuova associazione la WIC l'Unione Italiana dei Circoli del Cinema le ragioni stavano in un'accusa assolutamente infondata diventata poi denuncia pubblica secondo cui l'affice era un covo di comunisti che svolgevano attività al soldo di Mosca cosa abbastanza ridicola pensando che già dal 1949 a presidere la federazione c'era una figura di assoluta indipendenza come quella di Franco Antonicelli ex partigiano torinese non comunista di estrazione liberale e repubblicana per il quale ancora oggi a Torino opera un'incomiabile associazione culturale col suo nome e comunque erano questi gli effetti di un clima internazionale da guerra fredda di sospetti generalizzati che già in quell'epoca negli Stati Uniti si sviluppavano in modo inquisitorio e violento attraverso la caccia le streghe del maccartismo fu la mediazione del circolo romano del cinema disinnescare una situazione che rischiava di esplodere alla fine della tre giorni di congresso fu approvata una mozione presentata niente meno che dall'autorevole Cesare Zalattini allora presidente del circolo romano e letta dal regista Alessandro Blasetti in cui si ribadiva tra le altre cose che l'unità e l'autonomia politico-culturale della FICI non erano messe in discussione la nuova direzione nazionale eletta si formava così con Cesare Zalattini presidente ricoprendo questo incarico fino al 1965 e altre figure importanti che avrebbero arricchito col tempo in vari campi la cultura italiana come quelle di Callisto Kosulic Ivano Cipriani Luciano Emmer Michele Gandin e Mario Verdone per fare alcuni esempi tutti però rigorosamente maschi ma ciò che lega indissolubilmente questo passaggio alla storia successiva che riguarderà anche l'invasione di campo che farà Cecilia Mangini in un mondo tutto maschile fu il fatto che in quel direttivo era stato eletto anche un altro giovane che all'anagrafe faceva Pasqualino Del Fra che tutti chiamavano Lino sebbene la stessa Cecilia ci abbia sempre raccontato un po' scansonata che l'impatto tra loro due in quella di Orvieto non fosse stato poi così molto amorevole per un problema legato a Buonipasto che Cecilia non voleva concedergli sta di fatto che Lino Del Fra e Cecilia Mangini iniziarono non molto tempo dopo una bella storia d'amore che li avrebbe uniti per sempre non solo sul piano sentimentale ma in quello artistico ideale e culturale dopo una lunga pausa della sua attività cinematografica iniziata nei primi anni 80 in cui soffrirà anche la scomparsa della morte di Lino avvenuta nel 1997 l'incontro l'incontro tra Cecilia Mangini e Laffici si ricomporrà nel 2014 a Cagliari ospiti del circolo ufficio laboratorio 28 sono presenti Cecilia Mangini e Mariangela Barbanente per presentare il loro film appena realizzato in viaggio con Cecilia in quegli stessi giorni sempre a Cagliari si svolge il 28esimo congresso dell'Affici al quale Cecilia Mangini parteciperà e interverrà con passione e la sua solita energia recuperando il filo di una memoria associativa di un percorso comune che sembrava non si fossero mai interrotti ecco per concludere questi ricordi Cecilia Mangini ci ha lasciato il 21 di gennaio di quest'anno esattamente nel giorno dell'anniversario del centenario della nascita del partito comunista italiano al quale lei che negli anni della gioventù si definiva comunista anarchica era particolarmente legata non è stata mai banale nella vita e si può dire che non lo sia stata neppure nel giorno della morte è curioso registrare infine come nei giorni della sua scomparsa si sia affiliato nuovamente all'Affici il Circo della Cultura delle Arti di Trieste che nel 1947 partecipò con Calisto Kozulic e Tullio Kozulic alla fondazione dell'Affici e successivamente a quel famoso sesto congresso di Orvieto così tanto acceso è stato questo come un segno del destino una forma quasi simbolica per salutare e rendere onore a una straordinaria donna che aveva dato tanto alla storia e alla vita dell'associazionismo culturale cinematografico grazie Cecilia un ringraziamento a tutti Gabriele Gallozzi Luca Del Fra Vincenzo Vita Paolo Pisanelli Marco Asunis ed Elisabetta Randaccio passiamo la parola al secondo blocco dicendo solo quest'ultima cosa non abbiamo chiuso il discorso su Cecilia Cecilia della figura complessa ha bisogno di essere guardata più a fondo faremo delle altre cose su Cecilia e avremo modo di parlare ancora di lei buona serata a tutti e seguite il prossimo appuntamento appena chiuso questa finestra